non crediate che io sia venuto a portare la pace sulla terra io non vengo a portarvi la pace ma una spada sono venuto a seminare discordia tra un figlio e suo padre tra una figlia e sua madre i nemici dell'uomo saranno i membri della sua stessa famiglia voi mi direte abbiamo lasciato i nostri beni per seguirti e io vi rispondo che chiunque avrà lasciato casa, fratelli, sorelle, padre, madre, moglie, figli, terra per il regno di Dio sarà risarcito sulla terra cento volte ed erediterà la vita eterna chiunque tiene conto della sua vita la perderà ma chi vorrà perderla per amor mio la ritroverà poiché molti che sono i primi saranno gli ultimi e gli ultimi i primi perciò non accumulate tesori sulla terra dove la ruggine e le tarme li divorano e i ladri li portano via accumulate tesori in cielo poiché là dove sarà il vostro tesoro sarà anche il vostro cuore grazie 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 grazie